Mi dispiace, non avrei dovuto parlarti dei miei figli, non è professionale. Sai una cosa? D'ora in poi non pensare a me come Kate, la mamma lavoratrice, pensa a me come Bill, il tuo fidato analista finanziario. Il fatto è che studi dimostrano che le donne sono ottime investitrici. Ma se vuoi faccio finta che sei un uomo. Ok. Prego, ecco qua. Grazie, cioè non grazie. Beh, buonanotte Jack. Buonanotte Bill.